Sicuramente ha fatto la scelta giusta, però l'ha fatta troppo tardi, insomma dopo tre anni perché ieri Conte diceva che lui appunto la fa perché non è sordo e campanelli d'allarme che vede sul territorio in realtà io sono stato un campanello d'allarme da tre anni a questa parte quindi almeno questo campanello d'allarme è stato sordo quindi sì, sono soddisfatta ma ho anche tanta tanta amarezza perché nel frattempo si è perso tempo, si è persa credibilità anche del Movimento 5 Stelle e in qualche modo vedo che insomma è una forza politica che fatica a comprendere le cose giuste a comprendere le dinamiche dei territori e le capisce insomma dopo molto tempo allora io penso che l'ultima cosa che serve adesso in Puglia è proprio un altro assessorato, prima di tutto e in ogni caso questi patti sono credibili se gli interlocutori sono credibili e io credo che Michele Emiliano non sia un interlocutore credibile voglio sottolineare solo un paradosso, anche Alfonso Pisicchio aveva firmato il patto di avviso pubblico che è appunto questa associazione che invita tutti soprattutto in campagna elettorale ad aderire ad alcuni principi di legalità una firma, un patto non costa nulla, ecco soprattutto quando magari non si ha poi la credibilità non si mantiene la parola data e quindi diciamo io guardo queste iniziative sapendo che lasciano assolutamente il tempo che trovano e quindi non si trattano